SONO NATO IN UN PAÈESE PICCOLO, SAN TREDI, HO INIZIATO DA LÌ E NESSUNO POTEVA IMAGINARE CHE UN GIORNO KALAZE POTEVA GIOCARE AL MILAN. ANZI DEVO DIRE CHE QUANDO ERO PICCOLO, ALENATORE DI SAN TREDI ALÌ QUANDO ANDAO SCUOLA DI COALCIO MI DICEVA CHE IO ERO SCARSO, NON POTEVO GIOCARE, E QUESTO MI HA DATO ANCHE UN GRANDE STIMOLO. CACABER CALAZE, ONE OF MILAN'S GREATS UNDERCOACH CARLO ANCELOTTI. HIS STORY IS RICH IN DRAMA, COMEBACKS AND TRIUMPH, FROM A SMALL VILLAGE IN GEORGIA TO THE TOP OF THE WORLD WITH THE ROSSONERI. FIRMATO, COMPRATO DI CINQUI ANNI CON MILAN E SONO VERAMENTE CONTENTISSIMO CHE HA AVUTO QUESTA POSSIBILITÀ DI GIOCARE IN UNA SQUADRA CHE HA UNA STORIA, UNA GRANDISSIMA STORIA E UN CLUB IMPORTANTISSIMO PER IL MONDO. GIA CHEH UNA STORIA, UNA GRANDE ENRIZIONAL SERVERS IN DRAMA, COMPRATO ANCELOTTI. ONCE PART OF THE MILAN FAMILY, CALAZE EARNED HIS PLACE ALONGSIDE UN LEGEND OF ITALIAN FOOTBALL, THE ROSSONERI ICON, Paolo Maldini. Da piccolo mio idolo era Paolo Maldini. Io ero proprio bambino quando guardavo le partite di Paolo Maldini. Avevo i poster a casa di Paolo. Poi il Dio mi ha dato possibilità di giocare a fianco a lui. A parte un grande calciatore, grande campione, una grandissima persona e un grande uomo. Calazze is now mayor of Georgia's capital Tbilisi and an ambassador of Georgian football. He played a part in Kvitsa Kvaladzhelia's move to Napoli last season. Kvaladzhelia! 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 What a give and go that was! Con Kvitsa parlo spesso. Lui è un ragazzo bravissimo. Poi suo padre è mio carissimo amico. Prima che lui firmava contratto con Napoli ho parlato anch'io con la dirigenza di Napoli. ho spiegato, ho detto come era forte lui, come era un bravissimo ragazzo. Comunque poi mi hanno chiamato, mi hanno ringraziato che ho dato dei consigli molto, molto importanti. Lui è un idolo per i Georgiani comunque. Quello che ha fatto l'anno scorso, quello che sta facendo. Adesso poi per nostro nazionale è un giocatore importantissimo. Though no Georgians play in today's Milan, Calazze will be watching Stefano Pioli's men this Sunday when they travel to Sassuolo. Consolidating their Champions League place is key. Grazie per la visione!